Sono qua con il mio amico Cristian e proviamo a pescare nel suo laghetto gli storioni Pensate, con questa esca qua piccolina ci potrebbe boccare uno storione da 100 kg Si mette l'esca e si comincia subito a pescare, amici che emozione gigante Mi piace tantissimo pescare ma sinceramente uno storione non l'avevo mai pescato Abbiamo atteso un po' e guardate un po' Amici abbiamo preso la bestia, guardate papà come fa fatica Stavolta amici doveva essere davvero gigante Guardate papà come fa fatica per tirarlo a riva Amici ci abbiamo messo tantissimo tempo a tirarlo su dall'acqua Guardate che grande che è, wow Amici l'abbiamo preso, che grosso ma Cristian è più grande di me questo qua Quanto peserà? Sarà più di 60 kg questo perché non è lungo ma è cicciotto È cicciotto amici, sono contentissimo E ovviamente dopo averlo salutato per bene e aver fatto un po' di foto L'abbiamo liberato amici, che bello, era bellissimo vederlo andare libero nel suo laghetto Grazie mille Grazie mille